le comette sono bellissime ma per vedere passare ci vuole tanta tanta pazienza a volte anni di attesa un po come è successo con la maserati levante un'attesa durata quanto 13 anni vabbè non esageriamo quello era il 2003 l'anno di lancio della cubang di giugiaro ma la maserati levante è decisamente un'altra cosa è figlia di un altro progetto è figlia di un altro mondo addirittura visto come sono cambiate le cose degli ultimi anni per il gruppo fca però è vero che la prima sport utility di maserati si è fatta desiderare a lungo e quando si desidera così tanto una cosa c'è sempre tanta aspettativa e io ho grandi attese dalla maserati levante cominciamo dalla linea come al solito la levante è un'automobile imponente lo è davanti e lo è anche e soprattutto qui nella parte posteriore se fosse una foto modella sarebbe di quelle un po curvi insomma non fa niente per nascondere i suoi cinque metri di lunghezza e il suo metro e 68 di altezza tre centimetri in meno di una cayenne già la porsche cayenne è inutile che ci giriamo intorno la maserati levante ha nel mirino proprio lei l'icona delle sport utility sportive tedesche anche perché non c'è nessun'altra automobile che possa paragonarsi a queste due le cose che mi piacciono di più della linea sono due la fiancata e la spalla posteriore qui con il classico tridente ed è anche qui che si concentrano maggiormente le somiglianze con la sua nemesi tedesca la qualità reale anche quella percepita in maserati è cresciuta molto negli ultimi anni però anche i tedeschi non sono mica rimasti lì a guardare lo si vede da tanti piccoli e grandi dettagli per esempio la head unit è molto moderna la grafica è stata ridisegnata e sono stati anche integrati questi comandi sulla plancia però il software non tiene conto della presenza di questi nuovi comandi per cui svolgere per esempio alcune funzioni molto semplici come zoomare sulla mappa risulta abbastanza complesso e poi la connessione a internet non c'è la plancia è un giusto mix fra lusso tradizione ed ergonomia secondo i canoni che oggi vogliono i comandi e tutte le informazioni sempre a portata di mano e poi qui c'è una cosa per la quale alla maserati sono veramente dei maestri riuscire a creare un posto di guida ampio ma molto adattabile perfetto per controllare l'automobile per avere sotto controllo anche tutta la strada insomma davvero perfetto e poi guardate queste palette per il cambio sono spettacolari dentro c'è parecchio spazio persino per un quinto passeggero sul divanetto nel bagagliaio il centro prove ha misurato solo 349 litri di volume utile non molto anche se le rifiniture sono eccellenti e adesso che l'abbiamo vista bene da dentro e da fuori basta convenevoli e guidiamo sono a caccia di curve non mi interessa tanto la velocità massima che comunque è ragguardevole perché è di 266 km orari ma soprattutto le qualità di guida voglio vedere se queste 2,3 tonnellate di acciaio magnesio e alluminio made in mirafiori hanno veramente il sapore di una maserati sotto il cofano c'è il 3 litri v6 biturbo da 430 cavalli che poggia sulla struttura del telaio e della trasmissione della Ghibli opportunamente rifatta rinforzata rialzata insomma praticamente tutta nuova sì perché la Levante non nasconde di avere una vocazione se non proprio per l'offrodo e quantomeno per le strade dissestate anche perché la sua altezza da terra si può regolare grazie alle sospensioni ad aria fino a un'altezza di 25 cm che è più che sufficiente per gli ostacoli in più c'è la trazione integrale a ripartizione automatica dove il retrotreno ha sempre una netta prevalenza ma in caso di slittamento mette in tiro anche le ruote anteriori ma quello non era il terreno giusto per mostrare di cosa è capace la Levante o meglio lì può dimostrare la sua versatilità ma certo non può farci vedere di cosa è capace sull'asfalto ed ecco cosa sa fare sull'asfalto la Levante entrare in curva quasi senza rollio farti sentire sul volante dove sono le ruote anteriori anche sul sedile cosa sta facendo il multilink posteriore e poi uscire rombando dagli scarichi con quel sound tutto Maserati che fa voltare la testa della gente e tutti fanno ok col dito e ti sorridono si sorridono proprio come chi guida una Levante sorridente ammirato quasi posseduto dalle qualità della macchina sì perché un'auto con un telaio e una meccanica come questi ti prendono ti portano in alto ti fanno venire voglia di scoprire dov'è il limite della macchina beh il limite vero però lo scopriamo guardando la prova di quattro ruote completa con tutte le rilevazioni il giro di piste le accelerazioni le frenate ho scoperto che la Maserati Levante è un'automobile con due facce la prima viene fuori quando la guidi quando senti il suo sound quando percepisci la sua sportività e capisci che è una vera Maserati solo in un secondo tempo ti accorgi che è anche una sport utility e allora comincia piacerti ancora di più